e anche nel 2023 bravo Michele così si parte con una puntata du faire boldre me l'hai servita su un piatto d'argento ma benissimo io vado nel Perù viva Gesù ma anche qua funzionerebbe viva boldre hai un cognome allora sta qua la versione di Pierino che la maestra gli insegna io vado nel Perù viva Gesù non la so e Pierino dice io sono originale nel Perù c'ero anch'io non dico il resto io 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 credo che il du faire boldre del 2023 non poteva partire meglio di così qui è datata 1971 sta qua dai come fa in Veneto girava dappertutto no no va bene va bene ok è iniziato bene questo 23 beh per du faire boldre sì con questa barzelletta per altre cose no tipo per l'attualità per quello che sta accadendo evidentemente intorno alla guerra in Ucraina argomento che oggi andremo ad affrontare e anche per non siamo seri dai basta con la parte intrattenimento esatto grazie a Rick che mi ha dato due minuti per farmi un caffè ma ci mancherebbe guarda c'è il senso qui in questo studio non viene neanche più schiavizzato Fede in realtà adesso ho schiavizzato Valerio cioè tu sei l'ultimo che verrebbe schiavizzato per le trasmissioni tranquillo non c'è proprio possibilità come ascoltatore vi sto vedendo da che mug sto bevendo è pieno di libertari libertari non credo e allora non vi faccio vedere chi mi ha donato questo mug no fa vedere fa vedere fa vedere dai sono curioso io adesso no tu sei tu sei tu sei tu sei eh vabbè ho capito bello bello un covo di libertari impazziti un covo di libertari impazziti bella lì no comunque tornando seri allora visto che si avvicina all'anniversario dell'invasione russa in Ucraina credo che insomma questo è un argomento che affronteremo varie volte nelle prossime settimane però ci tenevo perché in questi giorni c'è un argomento che sta scaldando gli animi che è quello della fornitura di armi all'Ucraina a Kiev da parte della Germania e ovviamente anche da parte degli Stati Uniti perché si parla del fatto che adesso i russi hanno finito la batteria cioè nel senso la paccottiglia militare quindi hanno cominciato a mettere in campo dei carri armati molto più potenti si dice che questi carri armati russi che adesso io non mi ricordo neanche i nomi sinceramente ve lo dico quello sarà Parabellum che si l'armata i T-30 i T-30 una roba del genere comunque questi carri armati sono carri armati all'avanguardia esatto esatto e quindi si dice che ci vogliono tre carri armati ucraini per riuscire a fronteggiarne uno di russo e allora ovviamente ci si chiede ma qual è il commitment dell'Europa degli Stati Uniti nella guerra in Ucraina perché è ormai sempre più chiaro che c'è soltanto un modo per far sì che l'Ucraina esca vittoriosa da questo conflitto e quante volte abbiamo ribadito nei mesi scorsi l'importanza di questo fatto e c'è un solo modo e l'unico modo è che Europa l'Occidente riesca ad inviare armi che possano sostenere questo sforzo anche perché adesso insomma appunto entriamo nel chiudiamo i primi 12 mesi di guerra sicuramente non sarà una cosa a breve termine ancora e questo è molto importante e quindi si scatena questo dibattito la Germania ha alcuni tank all'avanguardia i Leopard gli Stati Uniti hanno gli Abrams M1 e il dibattito delle opinioni pubbliche intorno a questa cosa qua si è fatto molto stupido perché io in questi giorni ho letto delle robe assurde ho letto che ci sono persone in Germania ma non solo spaventate dal fatto eh no cavolo cioè stiamo scherzando questo è il riarmo della Germania il riarmo della Germania che quindi ci fa temere per il ritorno del nazismo ed è incredibile che ci sia un sacco di gente che cade nella rete di questa panzana non panzer ma panzana perché perché in realtà non c'è nessuna possibilità se c'è un nazismo attualmente in Europa è quello che la Russia ha scatenato in Ucraina al massimo e però si è creata questa cosa qua e mi fa molto ridere perché mi immagino un po' Scholz come se fosse Himmler o Goebbels che in realtà c'è il senso poro Cristo è l'ultimo dei burocrati ed è più spaventato che altro però anche lui ha diciamo così cavalcato questa paura questa paura antimilitarista ha assaggiato l'opinione di Repubblica tedesca e in qualche modo ha tergiversato fino a oggi di fatto perché oggi è arrivata la conferma che la Germania invera questi cararmati oggi è l'annuncio ufficiale oggi è l'annuncio ufficiale ho commentato giusto stanotte la democrazia è una roba complicata ci sono conflitti di interesse ci sono e sono espliciti grazie di conflitti di interesse ovunque nelle democrazie riescono a manifestarsi ci sono opinioni diversi interessi diversi tradizioni diverse è una roba complicata e continuerà a essere una roba complicata è la grande debolezza abbiamo grazie a Dio più intelligenza più cuore più dignità e soprattutto siamo molto più ricchi molto più ricchi di quei morti di fame criminali che vengono dall'est e molto più tecnologicamente avanzati quindi se abbiamo coraggio di resistere vinceremo vinceremo nel senso che permetteremo agli ucraini di vivere liberi nessuno vuole prendersi la Russia come ho detto tante volte con toni anche volgari ma lo ripeto della Russia non gliene scega niente a nessuno certo non gliene scega niente a nessuno vuole prendersi la Russia e quindi sai Scholz a me non piace ma è un socialdemocratico tedesco figlio di una tradizione politica complicata e corrotta corrotta non in senso dei soldi ma in senso valoriale valoriale è un partito che nonostante abbiano fatto Bud Goldesberg che è stato un grande non è riuscito e chiaramente non è riuscito in questi anni neanche dai tempi di Willy Brandt che poi aveva il segretario particolare che era una spia russa non è riuscito a liberarsi da uno strano mischiotto che trovo in tutti i miei amici socialdemocratici tedeschi anche di un certo livello di sogno del socialismo e boh paura timore ammirazione per la Russia perché la Rosa Luxemburga ammirava Lenin una roba del genere sì sì è quella della tradizione a questo unisci un antimilitarismo che però mi verrebbe da definire abbastanza come dire adolescenziale che in realtà abbiamo visto la nazificazione in Germania è stata una roba seria sì 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 certo assolutamente però dico adesso prende le forme di una paura adolescenziale cioè io ho letto un articolo che era di un blog tedesco che adesso non ricordo l'ho letto un paio di giorni fa riguardo c'è questo giornalista che ha una certa visibilità e proprio diceva attenzione perché nei compartimenti nei compartimenti militari tedeschi esiste ancora il germe del nazismo del nazismo del socialismo e via dicendo e in realtà poi sono andato un po' a guardare e mi sono detto ma cazzo ma è veramente grave questa roba qua quindi ho spulciato un po' dibattiti degli ultimi vent'anni in realtà scopri che tipo è un dibattito nato negli ultimi due anni questo che certo è un po' come è più grave la situazione in realtà in Italia perché se in Germania la denazificazione l'hanno fatta proprio all'interno di quelle compagini se vogliamo qui in Italia la defascistizzazione non l'abbiamo mai fatta quante volte l'abbiamo detta questa roba qua quindi fa un po' ridere che in un paese che è stato così duro che ancora adesso è così duro nei confronti del proprio passato giustamente ci sia appena viene fuori questa idea il timore di rinazificazione in realtà mi sembra che in Germania non ci siano le condizioni neanche lontanamente di parlare di questo è tutta propaganda poi se c'è rinazificazione è un cascame come dire del socialismo reale della Germania all'est come tutti sanno il supporto della io continuo a chiamare FPD invece AFD mi scusano i liberali tedeschi ma il mio cervello ha questo problema con le lettere non chiamo solo Francesco Federico Federico Francesco scegliete voi Valerio lo chiamerò Artemio Artemio mi scusi in anticipo ma chiamo anche i liberali i nazisti tedeschi col nome col simbolo insomma la FD la sua base elettorale ce l'ha in chi nella aree meno sviluppate più socialiste più protette dal vecchio regime Stasi della Germania dell'est perché ci sono come dire coerenze ideali anche di stili di vita e attitudini certo quindi il vero nazismo è quella roba lì sì se a questo poi se a questo uniamo il fatto che basta avere un po' di memoria storica dell'ultimo anno ricordiamo bene tutti i discorsi fatti in questi 12 mesi quando c'è stato diciamo così il tentativo di intervento sul gas russo e via dicendo sappiamo bene la Germania quanto è legata economicamente a Gazprom e a tutti a tutti queste diciamo alla Russia direttamente per le forniture Nord Stream 2 e tutto quanto quindi tutto questo a garbuglio ha creato questa ondata propagandistica che in realtà ha solo lo scopo di fiaccare la spinta dell'opinione pubblica e della volontà politica a fornire armi all'Ucraina peraltro posso dire che questo è anche cioè a me sembra come dire è un buon segno tra virgolette che ci sia questa spinta propagandistica che ha efficacia perché vuol dire che sul campo la Russia è molto molto meno sicura di poter vincere rispetto a quanto effettivamente si racconta e la paura da parte della Russia di vedere effettivamente usati sul campo dei cararmati di ultima generazione quindi appunto questi leopard tedeschi oppure gli Abrams americani è molto molto elevata c'è stato anche se in televisione russa ho visto proprio un servizio ieri in televisione russa sono arrivati dei servizi di nuovo di propaganda in cui dei giornalisti si prendevano gioco dei leopard in realtà poi sono intervenuti dei commentatori dicendo sì però quelli fanno i buchi molto grossi una cosa che ho fatto durante le vacanze ho guardato ogni tanto traduzioni di questi talk show russi e è palese che c'è una distanza culturale abissale fra l'Italia specialmente quella romana però c'è un elemento comune che bisognerebbe studiare infatti l'ho buttato lì l'altro giorno degli amici che si occupano i talk show russi sono uguali strutturalmente a quelli italiani cioè dicono puttanate ci sono personaggi vestiti a festa che fanno puramente sono finti dibattiti a tre quarti delle cose che dicono sono inventate false e soffrono di una forma di isterico desiderio di prendere per il culo il mondo e di dirsi che loro sono dei fighi che ovviamente come si chiama quella pratica religiosa il cilicio no no è una maniera di come dire non ostracizzare di allontanare ciò che sai che è vero di dire che non è vero che sei in decadenza la parola c'è un momento di amnesia non importa il problema è che ne parlano ossessivamente non serve essere freudo grande psicologo perché quando ne parli ossessivamente evidentemente è un'ossessione che ti spinge questo argomento come quelli che fanno sempre la stessa battuta quando fai sempre la stessa battuta rivela che la roba ce l'hai in mente e mi ha veramente divertito perché sono estremamente simili non so se andate in giro a guardare fa ridere anzi imbarazza si è abbastanza imbarazzante poi è imbarazzante quando pensi di cosa stanno parlando effettivamente l'imbarazzo diciamo così viene sostituito della guerra della distruzione dell'uccisione della violenza come se fosse un film si 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 è incredibile incredibile io devo dire che vabbè queste sono cose che abbiamo già detto però sono contento di stupirmi ancora in realtà perché vuol dire che non posso non ritengo normale non ho normalizzato ancora questo comportamento però il fatto che per esempio adesso ci siano persone che dicono la Germania ha palesemente paura di provocare troppo la Russia e io non so più che cazzo dire alle persone che ragionano così perché dall'altra parte la Russia ha avuto paura di provocare l'Europa di provocare l'Unione Europea di provocare la Nato con quello che ha fatto questa incapacità di pesare i comportamenti cioè da un lato tu hai un'invasione full scale un'invasione territoriale che sta creando quello che stiamo vedendo e che sta avendo anche un effetto di smantellamento di parti dell'economia e via dicendo insomma tutte cose che stiamo vedendo e vivendo e che gli ucraini in prima persona stanno vivendo in modo molto molto pesante con lo smantellamento delle loro case in realtà e del loro mondo dall'altro lato è incredibile questa cosa qua che ci siano giornalisti commentatori televisivi un po' in tutta Europa quindi Italia di più che dicono non bisogna provocare la Russia ma che cazzo vi siete bevuti cioè ma cosa vi siete bevuti allora secondo me guarda ormai se ero avanti da un anno uno ci riflette guarda la gente occorre separare due gruppi sono due tre gruppi in realtà partiamo dal gruppo in realtà più piccolo è a mio avviso quello che mi dà umanamente più fastidio dirò un no due nomi su tutti Tony Capuozzo e Nico Pio questa è gente di un livello di miseria umana e morale dentro unica perché? perché questi sono i sinistri pacifisti loro sono contro tutti sono sempre a favore dei debiti sono fatti e vendono gadget facendo la propaganda in realtà a modo loro l'altro giorno hanno fatto un piccolo pezzettino sull'utile idiota ecco a modo loro questi qua nella loro non lo so come definirla quindi non la definisco ma insomma nella loro mente vivono convinti di essere i buoni vivono convinti di essere dalla parte del bene e e ci gozzano c'è questa minoranza assurda secondo me è una minoranza poi in secondo livello c'è il pagato direttamente o indirettamente non importa ma c'è il pagato c'è chi è strutturalmente legato alla russia il potere perché ci ha fatto gli affari perché ci ha fatto l'ambasciatore perché ci ha lavorato perché ci ha gli amici perché la sua fondazione riceve o ha ricevuto dei fondi perché qualche impresa che si relaziona con la russia ci fa by the way Barilla per dirvi continua a vendere pasta in russia tra l'altro qui adesso devo fare una serie di studi che sono usciti di colleghi molto applicati c'è tutta una fetta di aziende amplissime italiane e non solo italiane europee in generale che continuano a fare affari con la russia tranquillamente alla faccia delle sanzioni e sarebbe il caso di denunciarla quindi questo costruisce un network di interessi e lo vedi qui si fanno propaganda sapendo ma almeno voglio dire questi sono delinquenti e sanno di esserlo stanno con Putin e sanno di essere è un ritorno personale poi in realtà tutti questi due gruppi su cosa fanno le varie che è il problema vero e comprensibile su cui bisogna lavorare su una paura vera su una paura vera che la gente ha perché perché da 70 quanti sono 77 da quanti anni viviamo senza guerra in Europa 77 ho fatto i conti sbagliati senza guerra 512 77 quest'anno va per 76 è tantissimo in questi 77 anni non solo abbiamo vissuto senza guerra senza distruzioni la ricchezza lo standard di vita le cose la vita tutto è esploso specialmente in paesi come l'Italia e quindi che il soggetto normale è la persona che viva nella paura che tutto questo finisca perché non riesce a collegare non riesce a vedere bene ed è compito di chi queste robe le capisce un po' di più cercare di spiegarle e farlo capire che c'è una connessione fra l'essere liberi indipendenti dalla Russia e dai regimi territoriali e la libertà la ricchezza la gioia di vivere le cose positive che hai avuto e se non vedi quella connessione tu vuoi fare che è l'atteggiamento che vedo più diffuso ed è su quello che fanno leva a questi quell'atteggiamento lì è complicato risolverlo perché in molte persone è spontaneo cioè io l'ho visto anche in amici miei e dice Michele ma se poi questi qua andiamo in guerra questi qua cominciano a bombardare noi davvero vale la pena e non è che fossero persone che amavano Putin no certo certo e questo è proprio un ventre molle culturale cioè anche psicologico mi parebbe da dire è psicologico credo sia uno degli effetti del benessere cioè nel senso alla fine dei conti se tu non ti trovi mai a dover difendere i presupposti che ti permettono di stare bene tu i presupposti li dimentichi cioè è come se diventassero un rimosso qualcosa di inconscio infatti io su questo cioè mi trovo a ragionare spesso ne abbiamo già accennato un paio di volte però sarebbe bello tornarci su questo c'è secondo te la possibilità di avere una società del benessere quindi una società dove economicamente si sta bene dove c'è la libertà dove però si riesce anche a mettere gli individui in condizione di dover non dico faticare però di doversi accorgere di quanto siano effimere queste cose qua di quanto ci debba essere fatica cioè c'è un modo per far capire la fatica della democrazia nella democrazia questa è una domanda importante capiti a fagiolo o hai ascoltato il mio 6 un quarto di stamattina giuro che no great minds think alike non lo so credo che bisognerebbe credo che bisognerebbe c'è un processo guarda ti faccio un altro esempio che sembra che non abbia neanche a fare ma è uguale perché ormai è frequentissimo allora oggi a St. Louis per la prima volta ha snevicchiato un po' ok una poca roba una roba ridico se giro lì vi faccio forse riuscite a vedere dalla mia finestra il pochino si riesce a vedere un po' lì eh beh si si vede un po' si vede un po' ho visto qualche è una cagata tenete conto che questa è una zona dove speriamo di no speriamo di no sì è una stronzata c'è un poca roba sì no non era non era feci ah questa è una zona dove nei tempi anch'io ho visto cioè mi ricordo quando ero sul mercato del lavoro la prima volta sono stato a St. Louis nel febbraio all'86 sono stato snorin alla città bloccato l'aeroporto e tutto perché è caduto un metro passa di neve dove gela dove fa meno 20 oh ragazzi il parking lot mi sta era chiuso mi sta ha detto ufficialmente oggi il personale se volete stare a casa è stata a casa è una sembra di essere Roma quando nevica allora commentavamo con quei colleghi coraggiosi che sono tutti in ufficio ma cos'è è una forma di adattamento progressivo alla zero fatica zero rischio zero tanto siamo ricchi non vado a lavorare fa veramente fa veramente ridere ci sarà un centimetro e mezzo di 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 neve molliccia non è nemmeno ghiacciato certo fa ridere fa ridere sta roba tutti quanti sono a casa alcuni hanno sospeso le lezioni e l'università per paura di essere criticata ha detto ma noi raccomanderemo continuare perché non è una roba gravissima però se proprio volete basta che lo dite al vostro chair secondo me è lo stesso meccanismo di habit forming che non lo so però Ric questo è interessante come lo fermiamo perché lo vedo ovunque eh sai quella lì cioè io credo che ci sia un ah credo che ci sia un'inevitabile ciclicità di queste cose qua cioè quando si sta male si è forzati ad accorgersi del dei presupposti che ti permetterebbero di stare meglio e vi dicendo e quindi lotti e fatichi per averli è la condizione in cui oggi si trovano gli ucraini per dire ma in realtà la condizione in cui si trovano anche paesi in via di sviluppo paesi che escono da dittature e iniziano a conoscere un po' il libero mercato la democrazia via dicendo e vedi che lottano fortissimamente perché sanno che quei presupposti non sono dati a un certo punto le civiltà entrano in un in un contesto di appunto benessere raggiunto e quando quel benessere è lungo ci si dimentica della fatica fatta per conquistare certe cose e quindi e quindi tu pensi che sia data questa cosa allora io credo che vabbè se dovessimo ragionare evidentemente la funzione dell'educazione anche nell'ambito dell'educazione civica della storia dovrebbe essere quella di dirti oh vecchio mio ricordati che naturalmente saremmo tutti a cannibalizzarci ricordati che il tuo avere la sala giochi e la playstation il campo da basket e la cena in tavola la sera assicurata per i prossimi tot anni non è una cosa data non è una cosa naturale non è una cosa che è il destino che te l'ha data no c'è una fatica dietro che però abbiamo dimenticato e quindi credo che la funzione dell'educazione sia quella di ricordarci quella fatica quando non la facciamo però mi sembra che da un lato la scuola non riesce più a fare questo palesemente poi peraltro un giorno voglio parlare con te di questo perché tu hai trattato la divulgazione però quanto io stia sentendo fastidio per il concetto di gamification cioè che tutto deve essere divertente imparare deve essere divertente via dicendo il gioco unito all'apprendimento queste cose qua che in realtà dovrebbe essere il contrario cioè nel senso va bene che ci sia il divertimento in queste cose qua però dovresti anche ricordati che se devi impararti un esame ti devi fare il mazzo cioè la fatica la farai sarà un sacrificio via dicendo però questo è un altro discorso il punto è che mi sembra che comunque si vanno in una direzione diversa cioè siamo tutti qua a chiederci continuamente com'è che facciamo a dimenticarci della fatica com'è che facciamo a dimenticarci del sacrificio com'è che facciamo a dimenticarci ma perché è facile perché credo che gli esseri umani siano fatti così ed è la cosa mi spinge un po' sugli studi miei c'è una roba in economia che abbiamo habit forming che credo sia ben compresa anche da psicologi eccetera anche se qui mi manca un po' di aggiornamento alla letteratura se per caso c'è qualcuno in rete che è una roba che ho studiato 20-25 anni fa me la sono tenuta un po' ma sono almeno 20 anni che non leggo la letteratura di tipo psicologico o neurologico o evoluzionista sull'argomento vi do il mio modello che forse è falso però magari mi direte se c'è evidenza a mio avviso è in analogia è una specie di generalizzazione a certi ambiti delle teorie chomskyane sul linguaggio che queste sembrano decisamente supportate da evidenza cioè noi abbiamo nel caso del linguaggio dice Chomsky ve la faccio proprio faccio attestare la grammatica generativa e l'iterazione le cose tecniche abbiamo nel cervello un sistema che non è localizzato in un punto preciso ma una struttura anche plastica neurale che definisce la capacità di parlare di articolare un linguaggio non di parlare di usare il linguaggio e di ragionare con il linguaggio e di espedirci con il linguaggio è una capacità generale che ha alcune funzioni e per diventare italiano inglese eccetera occorre che nella fase della crescita dopo la nascita si fissino dei parametri fonetici grammaticali sintattici posizioni dei verbi una serie di cose questo avviene ed è la ragione per cui l'apprendimento del linguaggio spontaneo e naturale ed è la ragione per cui fino ai 15 16 17 18 20 anni si possono apprendere parecchi linguaggi con poca difficoltà e tutti come lingua madre io ho avuto l'esperienza a casa mio figlio che parla tranquillamente quattro lingue con un accento del tutto naturale e altri tantissimi poi c'è evidenza clinica ecco io credo che per tutta una serie di altre cose fra cui la percezione del rischio della fatica dello standard minimo della sofferenza succeda qualcosa di simile e cioè che la nostra mente il nostro cervello nella fase della crescita poi dell'adolescenza della prima giovinezza ha setti dei parametri dei parametri di ciò che è faticoso ciò che è freddo ciò che è buono ciò che è da piacere ciò che piace ciò che non piace l'esempio banale perché a tutti piace la roba che fa la mamma quando eri piccolo anche se delle volte fa francamente schifo la mamma non è necessariamente sempre una cuoca altre sono delle mamme o dei papà a chi capita di avere il papà che cucina che cucinano delle robe che sono poltiglia cotie vedi ti dici anche no grazie saranno qui e ho detto mamma però adesso mi faccio un sandwich vado al McDonald's e fanno quello vado al McDonald's penso il meglio ecco però a tutti piace a tutti hanno trovato uno che non dice no c'era le cose che faceva mia mamma ce l'ho io tutti ce l'hanno perché secondo me è habit form ci sono una serie di habits che tutti setti e che diventano degli standard per cui ti piace anche la ragione per cui c'è tutta una serie di cose che troviamo anche letteralmente troviamo più bello il paesaggio in cui siamo cresciuti facciamo fatica ad adattarci a paesaggi diversi ecco secondo me questo qua funziona anche intergenerazionalmente e crea questo effetto che tu descrivi ti abitui diventa lo standard è normale questa cosa qua ma allora ecco la domanda e quindi il posto di perderla è enorme poi tuo padre ti dice sai Michele io sono cresciuto in un posto dove per terra nella casa c'era il fango il casone il tetto aveva il buco e tu dici ma papà ma come cazzo vivevate ma per oggi ero contento stesso ti dice lui io la vedo un po' così io sono molto d'accordo nel senso credo che c'è vastissima letteratura questa cosa qua se vogliamo ne parla ovviamente la neurologia da decenni però se vogliamo questo è l'argomento che portava addirittura Hume quindi questa è una cosa che fa parte sicuramente allora la domanda che pongo però è questa si può pensare ed è una domanda a cui anch'io non ho risposta ma cerco di ragionarci perché è importante si può pensare una società che sta bene e che riesce a non assecondare in modo autodistruttivo questo aspetto perché capiamoci bene ragazzi questa cosa che ha descritto Michele è una cosa che ci porta spesso all'autoilesionismo perché è una cosa che ci porta a accoccolarci nei ricordi nelle fantasie infantili quando magari devi affrontare il mondo lì fuori il fanciullino pascoliano che è una figura che io ho sempre detestato che trionfa e che ti porta poi a rovinare anche relazioni e ti porta anche a non riuscire a leggere la realtà quindi questa cosa che ha descritto Michele è una cosa molto naturale però è anche molto autodistruttiva quando devi costruire una società e allora la domanda è esiste un modo per far sì che il sistema educativo quello politico riescano a pur riconoscendo e rispettando questa naturale tendenza che non è che puoi tagliarla come un cordone ombelicale riconoscendola però non assecondarla troppo quindi farti sempre sentire che tutto quello che tu nutri in quella di nuovo in quella dimensione fanciullesca in quella dimensione abitudinaria in quei comportamenti che sono sedimentati nel tempo riuscire a farti capire che però quella roba non è data cioè che non la puoi dare per scontata il fatto che domani avrai ancora le energie il denaro il tempo per cullarti in quel tipo di sogni e visioni ed è questa per me una domanda molto importante perché secondo me noi abbiamo e stiamo attualmente costruendo una società che al contrario si nutre di quella roba lì si nutre di ciò si nutre attraverso soprattutto l'industria di intrattenimento l'industria di intrattenimento esiste nella misura in cui esiste perché riesce ad assecondare tutto quello che Michele ha detto ed è dal mio punto di vista un suicidio cioè nel senso è proprio un suicidio cioè l'industria di intrattenimento adesso induce l'intrattenimento gli esseri umani amano l'intrattenimento certo l'opinione che in quei futuri mitici che tanti sognano in cui le tecnologie le macchine faranno tutto ci toglieranno tutte le fatiche il 99,9% del prodotto interno lordo che a quel tempo sarà enorme sto facendo la fantasia visto che a voi mi piace Asimov tutta quella roba lì che infatti secondo me è il grande difetto di tutta la fantascienza che non capisce che in quel mondo magico fantascientifico in cui non c'è più il problema della produzione gli esseri umani si dedicheranno a spendere soldi su due cose la salute e il divertimento l'attività sessuale che è fatta di tutti gli organi non solo quella che piace a te va benissimo io sono poliamorose assolutamente favorevole all'eterogenità più ampia anzi notoriamente essendo un economista sono favorevolissimo al fatto che nessuno abbia le mie preferenze sessuali se del mio sesso se del mio sesso che tutti abbiano le preferenze sessuali del mio sesso quelle del mio sesso diverse dalle mie così io rimango da solo a godermela ecco io sono convinto che davvero qualcuno di voi che vi piace la fantascienza fatelo il vero mondo del futuro fantascientifico è un mondo in cui la gente passa il tempo a divertirsi anche con puttanate totali perché poi ci si diverte a livello del proprio consente intellettuale e a cercare di stare sani a curare le pillole a farsi fare le riparazioni a farsi cambiare l'uccello la gnocca la tette la naso il cervello Michele però su questo devo fermarti perché questo denota il fatto che non hai letto tanta fantascienza è pieno di fantascienza che racconta questa cosa qua nei modi in cui li stai declinando e c'è tutto un genere ma no sono tutte storie di guerre di dominazioni no non è vero ma Gibson cyberpunk oh neuromantic no è pieno guarda che è pieno guarda che è pieno sono cose che magari tu non hai letto non hai incontrato nel tuo percorso ma è pieno di fantascienza quelli famosi che mi avete consigliato tu e Paolo Bizzarri parlano d'altro Dune sono tutti lì che si ammazzano c'hanno i vermi una roba ridicola c'hanno i vermi è nello stomaco ragazzi è la miglior recensione di Dune che abbia mai sentito no questi si fanno la guerra e c'hanno i vermi sembra sembra il vermi solitario esatto bellissimo ma ridatemi Proust no no in realtà se vuoi ti consiglio a liceo ve l'hanno insegnata cosa? la legge del Proust qual è la legge del Proust ho paura di sentirla oggi Michele ragazzi on fire on fire on fire tutti che non siete informati scusa scusa comunque no chiudo la parentesi però no se vuoi io ti consiglio qualche serio titolo di autori di fantascienza che hanno parlato esattamente di quello che tu stai dicendo ci sono interi generi ah sì ecco no vabbè non mi rallegro perché secondo me è ovvio siccome è ovvio mi sorprendeva che tutta la roba di fantascienza poca è vero però i più famosi li ho guardati tutti il Dick quello lì che mi hai fatto leggere tu che fai il post guerra dove hanno vinto i tedeschi i giapponesi insomma parlavano di robe tristissime gente che si ammazza casino no secondo me aspetta aspetta la letteratura tutti attaccati alla televisione sarà una vita fra televisione e ospedale che beo no c'è il senso no no orrenda mi frega una sega però secondo me è quello gli umani comunque no ho capito quello che intende no c'è quella letteratura no comunque stavi dicendo quindi questo è il difetto della fantascienza e stavi concludendo il discorso credo no no stavo concludendo dicendo che queste sono le preferenze degli umani credo che su questo siamo proprio biologicamente determinati con oterogeneità ovviamente c'è chi pensa sia divertente appunto applicare la legge del Proust chi pensa sia divertente arrampicarsi a mani nude senza sicurezza sul Capitan chi pensa sia divertente leggere Finegan's Wake questo dipende però è fondamentalmente intrattenimento e piacere chi pensa che è divertente invece guardarsi reality tv dove fanno finta di innamorarsi in diretta e tutti vogliono vedere questo è palese si vede adesso gli anziani li abbiamo le capacità mediche che abbiamo sono sconvolgenti rispetto anche solo a quelle di 40 anni fa e vediamo che la domanda di salute di sopravvivenza è illimitata e quindi e questo suggerisce che è questo e sì hai ragione tu tutto questo è estremamente fragile certo appunto questo è di una fragilità enorme ah sì perché è un miracolo della storia degli umani che avviene nelle circostanze che si sono venute a creare attorno alla metà del ventesimo secolo dopo delle guerre immani e distruttive e hai ragione mai avvenuto prima quindi occhio ragazzi non è per niente garantito però questa percezione non c'è e non so ecco l'ultima cosa dopo da questo zitto cioè tu hai molta fiducia nell'educazione io no cioè no io per carità non ho detto che non bisogna studiare perché tutto quello che volete però queste capacità miracolose di se vanno a scuola e studiano e legano capiscono e diventiamo ma io non credo che sia una questione di lettura per esempio questo credo che l'informazione ci sia assolutamente credo che in realtà quando parlo di educazione parlo di una cosa anche un po' più ampia che comporta anche il fare tipi di esperienze capito cioè perché prima dicevo l'intrattenimento io prendo l'esempio dell'intrattenimento perché siccome l'intrattenimento come oggi lo viviamo non può che essere sostenibile in una società come la nostra ovvero una società dove abbiamo dimenticato la necessità di certe fatiche e quindi possiamo permetterci di pensare di poterci divertire il 98% del nostro tempo questo possiamo permettercelo oggi domani forse no e sicuramente ieri non ce lo permettavamo assolutamente e l'intrattenimento di massa esiste soltanto in virtù di questo il problema il problema è sempre il solito discorso pesare costi e benefici cioè è bello divertirsi io adoro divertirmi io videogioco guardo film guardo serie tv e via dicendo dall'altra parte però so che il mio cervello ha un certo livello di dopamine non ha più piacere cioè se io sto due ore durante la mia giornata a guardare serie tv o a videogiocare che è un quantitativo di tempo ragionevole per me e il giorno dopo sto sei ore a videogiocare io non non è che sto il triplo meglio capito non è che l'intrattenimento è così scalabile non sto il triplo meglio sto meglio allo stesso modo anzi forse sto un po' peggio perché magari mi viene il mal di testa magari mi viene la nausea magari ho tutta questa cosa qua e poi ho anche il senso di colpa per aver buttato un sacco di tempo e via dicendo quindi in realtà il punto è riusciamo a creare un sistema politico anche educativo e via dicendo dove ti viene dato lo strumento per farti capire che divertirti va bene ma non il 95% del tuo tempo perché ti stai tagliando i coglioni cioè questo è un po' il senso di quello che dicevo e questo lo si fa non solo attraverso la lettura ma anche le esperienze cioè perché lo sport è così importante e perché lo sport vissuto in un certo modo è così importante perché devi renderti conto che per vincere devi farti un mazzo così e se lo impari bene in modo adeguato a 11-12 anni magari poi a 30 anni ti ricordi che per trovare un lavoro adeguato per avere una relazione che funzioni per devi anche metterci quella fatica devi anche metterci quella sofferenza devi metterci quel sacrificio e via dicendo cioè è che questa roba qua di nuovo ci sta sulle balle perché a noi non piace sentirci dire che per raggiungere gli obiettivi minimi di vita bisogna faticare ci sta sulle balle anche ed è fa parte di questo meccanismo adattivo sono totalmente d'accordo l'unico problema è quantitativo Rick come sai io su questo sono diventato un pessimista antipatico insopportabile cafone arrogante ed è per quello che ci piaci cosa farci io non posso negare al mio cervello di riconoscere processi logici e fatti certo e sono del tutto mi sono andato convincendo che c'è uno zoccolo duro dell'umanità definito proprio biologicamente anche in parte socialmente ma può darsi muti adesso voglio dire una cosa contro di me che riduce il mio pessimismo il quale zoccolo duro è facilmente manipolabile facilmente desidera più di tutti fare un cazzo e divertirsi sia chiaro guardate ve lo dico brutalmente però di questo io sono sicuro che esiste una correlazione fortissima controllando per tutte le variabili socio-economiche che volete fra quotiente intelligenza è tempo dedicato ad attività produttive tempo dedicato al non ozio o al più se è ozio è del tipo vado a fare una maratona vado in palestra adesso oggi mi devo fare 40 chilometri in bicicletta in salita perché sono giù di fiato e robe di questo tipo è un'affermazione brutale da stronzo però voglio che qualcuno che studia queste robe me lo dica se dico cazzato esiste uno zoccolo duro dell'umanità che vuoi stare senta in poltrona godersi mangio patatine bevo biretta me guardo vanno a marchi ora c'è figa in television vanno a marchi figa in television però spero che non vanno a marchi figa in television io dico cose a caso gusti strani io c'è un altro serial ancora uno nuovo quello è prima cosa fai se coppa se coppa se coppa se coppa se coppa quante puntate 437 io voglio Michele Boldrin recensore di serie televisive io voglio le tue recensore sono una roba sono uno uguale all'altra è una roba di una demenzialità infinita e questi qua tutte queste persone per carità sono esseri umani anche simpatici gli puoi volere anche bene però fargli cercare di renderli partecipi a questa fatica che dice ma perché io devo pagare la benzina un po' di più devo ridurre il riscaldamento che poi è andata di culo quest'inverno avete visto che avevamo ragione avevamo ragione anche lì è andata veramente di culo la Russia il petrolio se lo può infilare là dove non batte il sole e noi viviamo felici e contenti l'anno prossimo si lo mette in jacuzia si l'anno prossimo finiamo le installazioni per 200 miliardi di cose di gas liquido e fine possono prendere tutto il ferro vecchio che hanno messo e non so farci sopra la torre Eiffel visto che buttano giù la torre Eiffel nei villaggi russi perché sono arrabbiati con la Francia si facciano la torre Eiffel ecco allora la connessione fra queste piccole fatiche e il fatto che sono queste piccole fatiche che ti permettono di farti il weekend di ascoltare Rick Duffer non è ovvia purtroppo non è ovvia e io sono molto meno ottimista di te che ci si riesce a capirla perché richiede ora qual è l'unico pezzo di evidenza che io ho contrario a questo ma funziona in lungo periodo che c'è un'evidenza montante che le stesse capacità cognitive possono essere lentamente migliorate dagli standard di vita sia dei genitori sia dell'infante che lo sviluppo cerebrale è molto favorito da stimoli e soprattutto da qualità alimentazione sedute assenza di virus e bla 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 e che quindi questo un po' aiuta speren speren questo è una giusta conclusione al ragionamento io non mi definisco ottimista in questo se ottimismo è la capacità della collettività quando ben impostata di migliorare la comprensione che gli individuano dei fenomeni della loro vita io sì questo ti dico per forza perché sennò non farei il lavoro che faccio io credo nella divulgazione fatta in un certo modo credo nell'informazione sono cose in cui credo credo anche dall'altra parte che siamo fondamentalmente degli animali di merda quindi in realtà è facilissimo che noi ricapitombolliamo giù dieci scalini dopo averne fatti a fatica due e non c'è dubbio il rischio è palese perché poi uno può chiedere il popolo russo ho capito sono oppressi ma che cazzo gliene viene da queste catombe che hanno montato eh non gliene viene proprio un cazzo se non l'idea di ah il destino manifesto Cristo il Dio ma io ho dovuto chiederlo ad amici amiche russi dico ma scusa gli ucraini se la sono cercate ma cosa cosa si sono cercate sì sì e Russia ma che cazzo te ne frega che vivi a Princeton che cazzo te ne frega gente che vive a Princeton bello 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 eh va così che fai un professore a Princeton e in privato mi dici a me super professore tra l'altro prendi i soldi miei forse di più hai una vita della sfiga non vuoi vederla a Russia manco dipinta ci vai forse una volta all'anno e portavi grazie tonnellate di caviale per far festa e sei lì che sotto sotto anche se poi pubblicamente razionalmente dici le cose giuste e mi dici sì però sì però cosa sì però cosa ma poi posso dire che posso dirti che a me il caviale ha sempre fatto cagare io ogni volta che ci provo non ce la faccio sono d'accordo in grande quantità fa schifo ma questi erano intanto c'è stato un anno degli anni 4-5 anni che abbiamo avuto due grandissimi studenti russi a Minnesota che erano molto simpatici e molto come dire divertenti e loro riuscivano ad arrivare con quantità gigantesche di caviale e vodka di qualità dal loro viaggio annuale in Russia e c'era il party in cui ovviamente io Larry e gli altri professori mettevamo cose molto più commestibili però c'era sto caviale ed era buono un pochino ok 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 non sopporto a parte questa cosa qua vabbè no no ma anche io vabbè abbiamo messo lì sul piatto della bilancia un po' di cose che sicuramente poi torneranno direi che adesso potremmo concludere magari ne ho detto di tutti i colori ne ho detto di tutti i colori no no ho detto fuori bene adesso se siete in live quindi non uscite perché rispondiamo a qualche domanda venite a trovarci in diretta ogni tanto così potete fare anche le vostre domande a tutti quelli che hanno ascoltato Indifferita o visto Indifferita mi raccomando vi ricordo di condividere la puntata è fondamentale prendere e condividere fare quella fatica abituatevi alla fatica di diffondere quello che vi sembra di valore perché se guardate Dufer e Boldrin e vi divertite e non fate un cazzo siete parte del problema ragazzi noi la nostra fatica l'abbiamo fatta fate voi la vostra e non rompete i coglioni bravi e magari abbonatevi anche e seguite Liberi Oltre e ci vediamo alla prossima e in live non andatevene che rispondiamo alle domande ciao